Luci e ombre nel rapporto economico della Campania, stilato dalla Banca d'Italia. Il sistema economico della nostra regione, secondo i dati di Banca Italia, mostra nel suo complesso un'ulteriore significativa crescita nel 2016 rispetto all'anno precedente, anche se molti settori, così come quello dell'industria, hanno difficoltà a decollare. Miglioramenti si sono verificati nell'ambito del turismo e dei servizi. Per quanto riguarda l'edilizia, invece, i dati non sono confortanti. Il 60% di chi perde il lavoro lo ritrova però entro tre anni, secondo sempre il rapporto stilato dalla Banca d'Italia. Va segnalata anche la crescita del reddito, con la conseguente espansione dei consumi delle famiglie. A fronte di questi risultati del tutto positivi, va considerata tuttavia la permanenza di alcuni pesanti effetti della crisi degli anni precedenti, come nella presenza di condizioni di povertà assoluta e di ostacoli al pieno dispiegamento dell'attività dell'impresa. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Paolo Emilio Mistrulli di Banca Italia, che precisa. Il dato risente di una serie di fattori, in particolare il comparto farmaceutico ha dato un contributo molto ampio. Al netto di questo settore, in realtà, c'è una piccola decelerazione che troviamo soprattutto nel comparto agroalimentare, ma legato sostanzialmente a fattori di prezzo piuttosto che di quantità. Sono in espansione però con prezzi più contenuti. Grazie. 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 Grazie.